Bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale in cui facciamo il punto della situazione in casa Lecce Dunque, dopo la pausa per le nazionali, i giallorossi sono tornati in campo lo scorso sabato al Sinigaglia di Como Contro la squadra di Giacomo Gattuso Il Como, un sodalizio neopromosso che sta decisamente disputando un campionato al di sopra delle aspettative Una partita risultato che alla fine è di 1-1 Giusto per quello che si è visto sul rettangolo verde Un Lecce sprecone che non è riuscito a concretizzare l'enorme mole di occasioni prodotte Ha anche fallito un calcio di rigore nel secondo tempo con il bomber Massimo Coda E il Como, sempre nel secondo tempo, è andato spesso vicino con delle ripartenze al vantaggio Un punteggio finale che alla fine nel complesso non procura degli ulteriori scossoni in classifica Dal momento che anche le altre squadre Grazie a tutti! Grazie a tutti!